Ecco, siamo pronti per dare il colore alla prima presa d'aria dell'F12 con il blu, eccolo là, quello là che è il mio. Dai vai, oh, fai le cose fatte bene, eh. Ora io c'ho il, la manda al carossiere. No, aspetta che stavo distante il mio, eh. Che figo? Quella mia compoletta, li vai a prendere la compoletta parciata? Super. Chi che manca lì? Anche qua, tipo qua, è a fine dì. Sarebbe, una roba alla volta. Vuoi farla oggi lì anche? Sì, oggi ho che non te ha incolorisci. Sì. Vuoi bastare? Dopo semmai che dobbiamo un'altra mano. Vaca boia, oh, c'è un mito. Oh, è stata grattata male lì. No, è perché ti capisci tre mani con loro. E quello? Ti capisci tre mani con loro. E quindi? Dopo che dobbiamo un'altra mano, vieni bene. Hai un'altra fortuna semmai Fabio. No. Ma te l'ho qui? No, no, dai, io ti. Ho c'ho... Non è che semmo arriva meglio. Aspetta, sì. Oh. Non è che semmo arriva meglio. Aspetta, sì. Oh. Eh. Ma per me. Non so da bussoli. Aspetta, avevo torte che altro cartone. Ti ha un po' qui. Vado a te. Ciao. Ciao. Ti colore sul telefono. Eh. Ehm. 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 Giana. Ciao, mi voglia. Oh, se ne abbiamo tua quale, ti vuoi rinorversa. Ah che vanno su Youtube questi video qua. Eh. Vanno su Youtube. Oh, Parisato. Fomffia dei versi. Eh? Fomffia dei versi. Ah che vanno su Youtube i video qua. è vero? oh puttana mostriamo tutti i motorini oddio c'è cane Fabio c'è cagnone noi abbiamo un mese del stesso progetto dovete fare ciò è che è nero il mio è il carbonio se fare carbonio vanno qua questo è un bello anche i lauretti c'è mi piace vieni ancora lì ma non è pieno vabbè io non ne basta no come no oh cazzo guarda che è la nuvola mi la riaforzo è fuori fuori? che ho detto che mai fuori se andiamo fuori il colore va in buono qui 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 che qui qui qui